Benvenuti nel nostro canale. Oggi esploreremo la regione della Basilicata, attraverso occhi curiosi e scoprendo destinazioni straordinarie. Se siete appassionati di scoprire nuove culture, panorami mozzafiato e storie affascinanti, siete nel posto giusto. Questo canale è un invito a esplorare insieme, a condividere le vostre esperienze e a creare una comunità di viaggiatori entusiasti. Ci piacerebbe sentire le vostre storie di viaggio, i vostri consigli e le destinazioni che più vi hanno emozionato. Non dimenticatevi di lasciare un commento qui sotto e di condividere le vostre avventure. E se siete nuovi, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdervi neanche una delle nostre prossime avventure. Preparatevi a partire per un viaggio senza confini. Siete pronti? Allora, avventuriamoci insieme. Venosa è una gemma nascosta della Basilicata, con un passato che affonda le radici nell'antichità. Questa città è conosciuta per essere la città natale di Orazio, celebre poeta romano. Il parco archeologico di Venosa custodisce i resti delle sue dimore, come la casa di Orazio e le antiche mura, offrendo un'immersione nella vita dell'antica Roma. Uno dei simboli di Venosa è il castello aragonese, una struttura imponente che domina il panorama della città. Esplorando le sue sale e i suoi cortili, è possibile rivivere la storia medievale di questo luogo. Venosa vanta numerose chiese antiche, come la Santissima Trinità, ricche di opere d'arte e di storia. I monumenti sparsi per la città testimoniano il passato illustre di questa località. Venosa, con le sue testimonianze archeologiche, i suoi monumenti storici e il legame con Orazio, si conferma come una tappa imprescindibile per chi desidera scoprire la ricca storia della Basilicata. Un viaggio attraverso questa città è un viaggio nel tempo, alla scoperta delle sue radici antiche. Castel Mezzano è un piccolo borgo incastonato tra le maestose Dolomiti Lucane, un luogo che affascina i visitatori con il suo fascino montano e le opportunità per esperienze avventurose. Il centro storico di Castel Mezzano, con le sue stradine lastricate e le case in pietra, trasmette un'atmosfera autentica e pittoresca. Girovagare tra i vicoli è un'esperienza che porta indietro nel tempo. Una delle attrazioni principali è il Volo dell'Angelo, un'emozionante esperienza che permette di volare su una fune sospesa tra Castel Mezzano e Pietrapertosa, offrendo viste mozzafiato sulla valle sottostante. Le Dolomiti Lucane offrono molteplici sentieri escursionistici che partono da Castel Mezzano, permettendo agli amanti della natura di esplorare panorami mozzafiato e godere della bellezza incontaminata delle montagne circostanti. Castel Mezzano, con la sua posizione spettacolare tra le montagne e le avvincenti attività all'aperto, è un luogo che incanta chiunque ami la natura e l'avventura. Esplorare questo borgo è un'esperienza che lascia un'impronta indelebile nei cuori dei visitatori. Tra i luoghi più iconici della Basilicata si trova Craco, un antico borgo abbandonato, che evoca un'atmosfera di mistero e suggestione. Le origini di Craco risalgono al IX secolo, quando il borgo era un importante centro abitato. Tuttavia, a causa di vari eventi sismici e frane, nel corso dei secoli, la popolazione fu costretta ad abbandonare il paese tra il 1950 e il 1960. Le case di pietra abbandonate e le stradine deserte hanno reso Craco una location cinematografica ambita. È stata scelta come sfondo per diversi film, grazie alla sua atmosfera unica e suggestiva. Nonostante sia un borgo fantasma, Craco può essere visitata attraverso tour guidati, che permettono di immergersi nella storia di questo luogo affascinante e di ammirare la bellezza decadente delle sue rovine. Craco rappresenta un'istantanea affascinante della storia e della resilienza della Basilicata. La sua bellezza decadente e il suo fascino misterioso lo rendono un punto di interesse imperdibile per chiunque voglia scoprire i segreti nascosti della regione. Non possiamo parlare dei luoghi più belli della Basilicata. senza menzionare Maratea. Questa pittoresca cittadina costiera incanta i visitatori con le sue spiagge mozzafiato, le scogliere imponenti e la ricca storia che permea ogni angolo. Maratea vanta una serie di spiagge affascinanti, come la spiaggia di Licini, la spiaggia di Fiumicello con le sue acque cristalline e la spiaggia di Cala Giannita, incastonata tra scogliere e vegetazione mediterranea. Dominando dall'alto, il gigantesco Cristo Redentore di Maratea offre uno spettacolo imperdibile. Questa statua sorge su una collina e regala una vista mozzafiato sulla costa e sullo splendido golfo. Perdersi tra i vicoli del centro storico di Maratea è un'esperienza unica, ricca di atmosfera e autenticità. Chiese antiche, palazzi storici e una vivace cultura locale rendono questo borgo un luogo da esplorare con calma. Maratea, con la sua combinazione di spiagge incantevoli, paesaggi mozzafiato e storia affascinante, si conferma come uno dei luoghi più belli e suggestivi della Basilicata. Se viaggiate in questa regione, Maratea è assolutamente da non perdere. Matera, anche lei si trova nella categoria dei luoghi più belli della Basilicata. È una città straordinaria che trasporta i visitatori indietro nel tempo attraverso i suoi sassi, un intricato labirinto di case scavate nella roccia. Questi antichi insediamenti, risalenti a millenni fa, rappresentano uno degli esempi più affascinanti di architettura al mondo. Le abitazioni, le chiese e i vicoli si snodano lungo le pareti di tufo, creando un paesaggio unico e suggestivo. Dal bel vedere di Matera o dai suoi punti panoramici, si può ammirare una vista spettacolare dei sassi e del paesaggio circostante, regalando un'esperienza indimenticabile. Matera ha servito da sfondo per diverse produzioni cinematografiche, tra cui film epici come La Passione di Cristo di Neil Gibson, sfruttando la sua ambientazione unica e affascinante. Matera, con la sua storia millenaria, l'architettura unica e l'atmosfera senza tempo dei suoi sassi, è un tesoro della Basilicata. Visitare questa città significa immergersi in un mondo antico che continua a sorprendere e affascinare. Una minestra a base di verdure di stagione, cotta in un brodo saporito. Si tratta di un contorno genuino e ricco, realizzato con cipolle stufate, carciofi, patate e fave, il tutto insaporito dalla nota sapida e stuzzicante della pancetta. La ciauredda, con il suo concentrato di aromi, sarà un perfetto accompagnamento a secondi piatti semplici, come le cosce di pollo al forno, oppure il filetto di merluzzo in padella. Peperoni rossi disidratati e fritti. Si possono gustare come sfizioso contorno di qualunque secondo di carne o pesce, per condire la pasta, o da sbriciolare su delle bruschette di pane. Possono accompagnare delle verdure lesse, le patate cotte in padella o baccalà. Conosciuto come pane nero per il suo colore scuro, è preparato con semola di grano duro e lievito madre, cotto in forno a legna. È un simbolo della tradizione alimentare di Matera. La forma del pane ricorda un piccolo rilievo montuoso, caratteristico del paesaggio della morgia materana. Si può gustare in qualsiasi modo, perché questo pane, vanta un sapore facilmente abbinabile con qualunque delizia lucana. E questo conclude l'ultima tappa del nostro viaggio di oggi. Speriamo che vi siate divertiti, e che abbiate trovato ispirazione nelle destinazioni, e nelle avventure che abbiamo condiviso insieme. Ci piacerebbe conoscere la vostra prossima destinazione da esplorare o quale luogo vi ha lasciato senza fiato. Non esitate a condividere le vostre esperienze nei commenti qui sotto. E se siete stati rapiti dall'entusiasmo per viaggiare, e scoprire nuovi orizzonti, vi invitiamo ad iscrivervi al canale per non perdere neanche una delle nostre prossime avventure. Grazie ancora per essere stati qui, camminando assieme a noi. Ci vediamo presto, esploratori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.